Ciao ragazze, benvenute. Oggi parliamo dei grani di miglio. I grani di miglio sono praticamente delle concentrazioni, degli ammassi di trigliceridi che si vengono a formare sul viso a prescindere che uno abbia la pelle grassa o la pelle secca. Fondamentalmente il grano di miglio si forma perché? Si forma perché si tratta comunque sia di un punto nero che non trova il poro di uscita. Quindi si forma questo antiestetico puntino bianco. Io devo dire che pur avendo una pelle tendenzialmente secca ho questa problematica qua. Ho questa problematica qua e vi dirò che in passato io i grani di miglio li ho anche tolti dall'estetista ma sono poi tornati. Tra l'altro tolti dall'estetista restano poi una serie di, non di cicatrici, restano una serie di segni, fa la crosticina che vi costringe comunque sia per qualche giorno a dover ricorrere a fondotinta un po' più coprenti. Non so quanto poi sia corretta l'applicazione di un fondotinta un po' più coprente dopo che è stato asportato il grano di miglio perché comunque sia si tratta di una lesione dell'acute sulla quale viene applicato un prodotto, cose alle quali io sono contraria. I prodotti vanno applicati sulla cute integra, sulla cute comunque sia lesionata. Io sono contraria a questi tipi di applicazioni. Ciò nonostante è necessario comunque sia, a meno che uno non faccia come me che è uscito ugualmente con i segni, molti si sentirebbero sicuramente a disagio. Dipende poi dall'entità, da quanti se ne ha, da quanti sono stati tolti, dall'entità del segno che rimane. Quello che vi posso dire è che il grano di miglio tolto dall'estetista, comunque sia da una brava estetista, non lascia alcun segno. Io oserei dire anche che chiunque, non chiunque, ma chi ha una manina abbastanza ferma, una manina abbastanza esperta e ovviamente attraverso l'utilizzo di strumenti sterili riesce a togliere il grano di miglio anche in casa. Cosa che io non faccio perché conoscendomi sarei una che andrebbe ad insistere, andrebbe a schiacciare troppo, andrebbe a sollevare troppo, quindi mi astengo da fare quello che non sono capace a fare, soprattutto sul viso. Se trattassi di un'altra parte del corpo, sperimenterei, sempre con un certo timore, ma sperimenterei sul viso, ho un po' più di problemi al farlo. Anche se ci sono delle mie amiche, ma loro sono molto più preparate, si azzardano a sperimentare, a mettere prodotti, ma è più forte di me, non riesco, sarà anche perché io ho la pelle particolarmente sensibile. Dunque, che cosa ho pensato di fare? Avendo io questa problematica qua, dei grani di miglio concentrati in questa zona qua delle gote, fondamentalmente il grano di miglio poi viene via anche per levigazione, a forza di levigare il viso, il grano di miglio scompare, scompare ma poi 99 su 100 torna. Siccome anche l'utilizzo di troppi prodotti gommanti, esfolianti o leviganti che siano, risulta troppo per questa zona qua, per me io ho deciso di adottare un altro approccio. Ho deciso di fare questo. Io lo sperimento su di me, non ha ancora iniziato, lo faccio con prodotti comunque sia che ho già provato e che so che sono tollerati dalla mia pelle. Non lo inizio in questi giorni, perché in questi giorni ho la cute sensibilizzata da una reazione allergica, non capisco, non è una reazione allergica ad un prodotto, ma è una reazione allergica di qualche altro tipo, perché l'avverto anche in altre parti del corpo, quindi per adesso lascio perdere. La prossima settimana, che sarò un po' più tranquilla, io inizierò a fare questo trattamento. Un trattamento a giorni alterni, che io ho deciso di fare per un mese circa, perché si tratta di un trattamento che comunque sia non so se darà i suoi frutti e in quanto tempo li darà i suoi frutti, questo trattamento qua. Dunque, io che cosa ho deciso di fare? Di applicare in questa zona qua, e anche in questa zona qua, visto che ci sono, prendo la palla al balzo, di applicare questo prodotto qua, naturalmente io ho questo, ma ne ho anche degli altri campioni, questa è una size un po' più grossa, la Sleep & Peel di Filorga. La Sleep & Peel di Filorga è un prodotto estremamente levigante, è un prodotto levigante che contiene sei alfa idrossi acidi della frutta, tra cui l'acido glicolico, l'acido azelaico, quindi sono sei alfa idrossi acidi molto, seppur in concentrazioni non elevate, comunque sono sei alfa idrossi acidi tutti insieme in questo prodotto qua. Quindi, io che cosa ho deciso di fare? Io ho deciso di andarla ad applicare in questa zona qua, e in questa zona qua, inizialmente. Poi, riflettendoci, ho detto, vabbè, faccia anche la parte qua del naso, dove io ho l'ossessione che mi vengano i pori, che io abbia dei pori troppo dilatati, ma sono mie fisse, mie ossessioni. Facendole in questa, metto questa maschera, questo prodotto qua, ovviamente sul viso completamente deterso, applico il mio siero, e applico questo prodotto qua, solo ed esclusivamente in questa zona qua, non vado più in su perché questo prodotto qua sarebbe troppo per il mio contorno occhi, perché io ho la pelle particolarmente sottile in questa zona qua. E sopra che cosa andrò ad applicare? Andrò ad applicare, ve lo mostro, un velo di questa maschera intensa all'acido ialuronico dell'Istituto Estederm, su tutto il viso. Quindi andrò a dormire, e la mattina seguente, dopo la mia detersione, la mia skin care, il prodotto, i prodotti di trattamento, i prodotti di make up, applicherò come sempre, ma con un occhio di riguardo in più per questo periodo, il filtro solare. Il filtro solare perché comunque sia, tutti questi acidi qua, prodotti comunque sia, leviganti, esfolianti, così, è meglio farlo durante la stagione invernale soprattutto, e comunque sia, si necessita sempre di una protezione solare. Lo faccio adesso perché io sono sicura che per il prossimo mese sicuramente non andrò in montagna a sciare, quindi non sarò sottoposta ad esposizione solare forte. Sì, mi potrà capitare di uscire, di andare a fare una passeggiata, ma sicuramente non andrò a sciare, cosa sicura e strassicura. quindi inizio a fare questo trattamento, questo piccolo trattamento qua. Vi saprò dire poi, nel corso del tempo, voi forse non li vedete perché non si vedono moltissimo, ma io, diciamo che sono più fissazioni che io, che non cose che si vedono moltissimo, ecco, cioè non si vedono forse neanche, però io me li vedo, me li sento, per me, a me danno fastidio. Quindi faccio questo trattamento e vi saprò dire poi se ho sconfitto i grani di miglio oppure, oppure no. Io mi raccomando a tutte quante, questi sono esperimenti che io faccio sulla mia pelle. Attenzione quando si utilizzano prodotti esfolianti, prodotti leviganti, perché si fanno anche dei grossi, dei grossi danni. Quindi bisogna andare sempre con immensa cautela nell'utilizzo di questi prodotti qua, non farli mai durante la stagione estiva, perché esfolianti così forti durante la stagione estiva non vanno assolutamente, non vanno assolutamente bene. Ad esempio, chi propone una slip in pila a giugno è un folle, ecco. Quindi vi saprò dire come mi sarò trovata con questo metodo che io ho deciso di utilizzare per provare a levigare questi grani di miglio, che poi per assurdo il grano di miglio viene via per esfoliazione anche. quindi teoricamente questi grani di miglio non dovrebbero neanche, se uno ha una skin care costante, precisa, fatta col prodotto giusto, ma non con il prodotto giusto inteso, nel senso il prodotto giusto che sia necessariamente un prodotto che costi 50 euro. Il prodotto giusto, ossia con degli ingredienti giusti, ma anche giusto, ma soprattutto giusto per il proprio tipo di pelle, il grano di miglio, quindi proprio con una detersione corretta, la pelle viene automaticamente esfoliata, quindi il grano di miglio non si dovrebbe neppure formare, in realtà si è stata grandissima sfiga di produrli ugualmente. A prescindere, ripeto, da pelle grassa o secca, perché io ho la pelle secca e li ho, mia madre ha la pelle grassa e li ha altrettanto, quindi non dipende da pelle grassa, pelle secca, colesterolo, non colesterolo, o tre gliceridi, non tre gliceridi, perché io non ho né colesterolo alto, né tre gliceridi alti, eppure li ho ugualmente, ecco per dire, proprio perché si ha la sfiga di produrli. Bene, detto questo, io vi ringrazio, se avete domande, scrivetemene sotto nei commenti, altrimenti magari tra un mesetto, ecco a febbraio, ci riaggiorniamo e vediamo come è andata. Questo trattamento io lo farò un giorno sì e un giorno no, quindi tre volte alla settimana, per un mese circa, certo che se poi vedrò che è troppo forte per me, interromperò il trattamento, ma io la sleep and pill l'ho già utilizzata, non in questa zona qua del viso, ma l'ho utilizzata in questa zona qua, e non ho avuto nessun tipo di problema, ma qua la pelle è molto più spessa che non, che non qua, e poi io qua la pelle è molto molto sensibile. Detto questo io vi ringrazio, un bacio a tutte, alla prossima, ciao! Ciao! Grazie.